Vorrei farvi svolgere un tema in classe. Il tema è malessere e benessere. Attribuisci un significato ai due termini ed esponi le cause che secondo te determinano questi due stati d'animo. Riferisci delle esperienze personali. È un tema personale, cercate dentro di voi. Quante volte ci siamo trovati con un foglio bianco davanti e una penna in mano? All'inizio ci si sente sopraffatti da quello che sembra un enorme spazio vuoto. E poi, quasi per magia, le parole vengono da soli. Malessere e benessere. In corso della mia vita, fino ad ora, ho incontrato entrambi gli stati d'animo. Ognuno ha la sua storia e i suoi momenti tristi, non classificabili in una scala di dolore, perché il dolore è soggettivo. Il momento più triste della mia vita l'ho vissuto esattamente sei mesi fa, con la separazione nei miei ridori. No. Mi è crollato il mondo addosso e proprio per questo, anche a livello caratteriale, sono peggiorata. Molto, almeno molto. posso ritendermi fortunato. Non mi è mai mancato nulla, ma c'è una cosa che mi accompagna continuamente in un istante, l'ansia. Lei ovunque, è rovinorissimo la mia esperienza positiva, impedendomi di essere me stessa. Il tema è un'occasione per guardare dentro di sé e raccontarsi. Ma le parole possono anche fare paura, soprattutto a chi di solito si sente invincibile. Dora, Elfi, è l'unica che non sta scrivendo. Ma perché non mi va di scrivere? Non voglio raccontare le mie esperienze personali, mi dispiace. Perché non le va? Eh, perché no, perché sono brutte, non mi va di... le ville. Non mi va manco di ricordarle. Beh, scrivere può servire, sa. Eh, lo so, già l'ho fatto tante volte, non... non è servito a nulla. Non voglio rifarlo un'altra volta. Guardi, poi chiedo di uscire, schiarirsi un po' le idee e poi ritorno in classe. Io il tema non lo voglio fare. Lei faccia come le ho detto. Adesso va fuori, prende un po' d'aria, non cambierà nulla, come vuole lei. Secondo me Claudia è così aggressiva, violenta, perché ha passato delle cose che l'hanno cambiata, in un certo senso. Non vado a raccontare il mio passato, perché è brutto. Cioè, non mi vado a raccontarlo perché è brutto. Cioè, non voglio raccontare niente di me se non quello che sono ora. Dentro Claudia c'è tanta insicurezza, sicuramente e poi ha paura di se stesso. Dorelfi. Si, me liga. Dorelfi, sono qua, mi vede? Si è schiarita le idee? Sì, ma... Che cosa ha deciso? Preferisco prendere un tre. Mi dispiace. Va bene. Adesso, per rispetto dei suoi compagni, però, si pensa al tema e non solo a lei. Allora, mi farebbe piacere che qualcuno leggesse il suo tema. Brondin, ci lega il suo tema? No, 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 no. Non sono abituato a sentire dei noio. Leggo? Prego. Malessere è quando, per esempio, si fanno le squadre per fare una partita di pallavolo e vieni scelta per ultimo. Quando, dopo aver organizzato una festa, tutti i tuoi amici il giorno prima si inventano delle scuse per non venire. Quando provi a chiedere a qualcuno perché è così con te, ti rispondono che è colpa tua facendoti sentire peggio. Quando tutti i tuoi amici ti voltano le spalde senza un apparente motivo. Sinceramente non saprei come spiegare bene il benessere perché non sono così felice e non ho tanti amici. Spero che qua riuscirò a trovare degli amici veri e stare bene con le persone perché ne ho bisogno. Beh, lei ha ricevuto anche un applauso spontaneo. Aresta, è rimasta colpita? Patata! Raccontare qualcosa di nostro può servire a qualcun altro? Spero di poterti aiutare. Ah, sì. Crispino, sarei curioso di sentire il suo tema. Ma non lo leggo. Perché non vuole leggerlo? Dà fastidio. Che cosa le dà fastidio? Vuole farmi vedere il debolo da tutti. Le dà fastidio leggere le sue parole? Mio padre ha otto mesi mi ha lasciato da solo con mia madre e con le mie sorelle e i miei fratelli e lui è andato via perché ha fatto sta cosa. Da papà mi ha avuto affetto, cioè un affetto che credo di meritarlo. è una persona riservata lei? Odio far sapere le cose agli altri. Da Dario legga lei il suo tema prego. stare bene con me stessa per quanto mi riguarda non è mai stato semplice. Spesso infatti non mi sopporto come credo quasi tutti. Però qualche volta trovo delle persone in credo di farmi amare Vilma un po' di più. Dopo tanto tempo e dopo tante cose che mi sono successe mi sono sentita capita da qualcuno e credo di essermi innamorata. Oddio io non lo so che cosa è l'amore ma credo che quello che io ancora provo per lui dopo tanto tempo si avvicini molto alla concezione che si ha di quest'ultimo. Lui per me è stato una specie di supereroe pronto a salvarmi ma i supereroe non possono amare un super cattivo e quindi l'ho allontanato con i miei modi di fare con il mio essere rude e l'ho fiorito. Questo è malessere non poter rimediare i propri errori e dover imparare a convivere con loro. Mi prendo a pugno il cuore da sola masochismo e rimpianto. Avrei avuto avere il collaggio di Vilma sì non si è fregato di niente va bene. Lei ha un modo di scrivere molto intenso. Bo scriveva così anche mio padre mi dicono però io mio papà non l'ho conosciuto bene perché l'ho conosciuto a me lo ricordo è morto che avevo 10 anni cioè si è malato che ne avevo 6 comunque però sì cioè di solito non vengo dicendo queste cose perché comunque sono passati 4 anni e credo di essere comunque matura adesso cioè nel senso sono le cose si passano avanti alle cose si cresce anche perché ho sempre deciso ci ha provato ad essere forte anche per mia madre mio fratello che è più piccola di me quindi c'è sì però boh ci sono tanti tipi di malessere sentire le parole mi hanno fatto rumore parlare di suo padre come quelle stelle negli occhi mai non mi sono mai sentita dire ti voglio bene mai guardi la classe una valle di lacrime non riesco a piangere cioè non ho emozioni io mi domando sempre cioè perché non piango perché non piango e non riesco proprio a piangere non mi sono mai sentita che non mi sono mai sentita che non mi sono mai sentita Grazie a tutti